E adesso i siti di informazione online, cominciando da SiracusaOggi.it, che parla di cronaca. Carabiniere, si toglie la vita nella notte, la donna aveva prima sparato al compagno. Tragedia, la notte scorsa a Siracusa, una donna di 32 anni, in servizio al comando carabinieri di Viale Tica, si è puntata all'arma d'ordinanza alla Tempia e si è tolta la vita dopo aver sparato alcuni colpi all'indirizzo del marito, puliziotto di 45 anni. Non sono chiari i motivi del gesto che sarebbe da ricondurre, secondo le prime indiscrezioni, a dinamiche familiari. Nella prima parte della mattinata hanno raggiunto Siracusa i parenti della giovane accolti presso la caserma di Viale Tica. L'uomo è ricoverato all'Umberto I, è stato operato ed almeno un proiettile estratto pare dalla coscia. E' avvenuto tutto in via Spatola, nella zona di Traversa Carroziere, poco distante da via Lido Sacramento. Sul posto sono arrivati polizie e carabinieri per avviare le rispettive indagini. La procura ha disposto il sequestro dell'immobile, delle armi in uso alla coppia, rilievi scientifici e accertamenti balistici affidati a Eris. E' stata disposta l'autopsia.